Buongiorno ragazzi, ho dei capelli incredibili, porca miseria, vi ricordo che domenica sarò a Orvieto a un centro commerciale a fare il mio firmacopie, trovate il video su youtube o qui girate tra l'altro preparatevi perché ho un altro firmacopie a Brescia, non mi ricordo la data poi l'8 aprile dovrebbe essere a Roma e tanta roba io non capisco perché alcune persone si devono arrabbiare tanto perché gioco con gli sponsor ma l'ho detto, gli sponsor è normale, danno anche del supporto economico diretto perché non dovrei dedicargli una volta a settimana la possibilità di giocare con me? ma perché? tanto è una live comunque da vedere, ma non capisco che poi tra l'altro parlano quando ieri sera ho giocato nuovamente con gli sponsor l'altro giorno ho giocato comunque con gli iscritti ma a me fa no piacere, di più quindi cerco di dividermi il più possibile su quello che posso a me io non mi sento una persona cattiva però mi vogliono dipingere come tale e questo un po' mi dispiace comunque io il mio lo faccio, mi metto a registra Clash of Clans vi ricordo che domenica sarò a Orvieto sul mio canale trovate il video appunto dove vi dico dove sto al centro commerciale chi vuole venire è benvenuto tra l'altro c'è chi mi ha mosso le critiche del eh ma devo per forza comprare il libro eh ma devo per forza comprare il paguro se no non posso venire a farmi una foto con te non è vero io non ho mai lasciato nessuno senza foto e senza fotografo e sfido chiunque che sia venuto a un mio firmacopi a dire il contrario sempre ad Ancona poi ho fatto amicizia con dei ragazzi mi sono divertito tantissimo quindi ripeto non mi dipingere per quello che non sono non mi dipingere per l'altro